Conquistate gli uomini. Prendiamo Cianti. Prendiamo B. UAV alleato in arrivo. UAV di disturbo pronto. E sotto controllo. Prendiamo C. UAV alleato in arrivo. Prendiamo A. Siamo passati in battaglia. UAV di disturbo pronto. Pessile Hellstorm in arrivo. Prendiamo Cianti. Tutte le bandiere conquistate. Tenere la posizione. UAV di disturbo in arrivo. Vissato orbitale in attesa di ordini. UAV pronto. UAV alleato in arrivo. UAV di disturbo in attesa di ordini. Prendiamo Cianti. Abbiamo perso A. Vissato controllo. Prendiamo Bravo. Fissato orbitale pronto. UAV in attesa di ordini. UAV alleato in arrivo. Prendiamo Bravo. Prendiamo Cianti. Vissato orbitale pronto. Vissato orbitale online. UAV in attesa di ordini.